Adesso ha fatto un casino di gol a collo. Adesso è primo, un po' sporchi. L'ultimo l'ha fatto bene. Anche un per uno, l'ultimo l'ha fatto bene. A metà rimballato parecchio. Si può ancora recuperare. Basta vincere una per volta. Non è che ne vengono ingettate, una sola. Non riesco a girare. Non riesco a girare. Non ci vogliono andare. Ci vogliono andare. Questa l'ha parata. No, questa si è bloccata nella sponda. C'era troppo bassa. Guarda. Un po' strada. Alla camara. Alla camara. Non puoi perdere. La strada è quella. La strada è quella. Cosa puoi dire? Tu gioco con Moreno. l'80% è culo una parte di culo troppo di quel centro dai ripartiamo riparti è vero che vuoi ripartire perché ti vogliamo bene la torta fa una bella foto vai non c'è una bella pace dopo l'ho capito potete andare alla dritta e aspettare un momento giusto no la vedo che dopo ti mette con la lì non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' brava c'è un po' guarda tanti volte succedo guarda tranquillo concentra questi cogliono l'attimo capito? ah mio piede guarda parlo sul tuo battaglia guarda parlo succede qui qui c'è qualche strega che mi ha fatto qualche maleficio non c'è un po' non c'è un po' un cappotto oggi ho fatto un cappotto ma che sto zitto non sto sicuro di questo non posso è impossibile dai sono troppo gasato non c'è un po' non c'è un po' tranquillo 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 Le va belle a mille, a 10.000 a mille, con questi due, non li vedi? No. La ciaccata. La ciaccata, ma... La sponda.